Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di SteamWorldQuest Bene, sono tanto contento perchè ci manca poco per livellare E la cosa non mi dispiace affatto Quindi, dove possiamo andare? Se avessi una mappa... Ecco la mappa, ho fatto una bella figura di merda Meglio prima... Va bene Facciamo che non ho detto niente E andiamo avanti perchè insomma si Allora, la mappa dice, per ora Non fa vedere i segreti Se ci sono, non lo so Che c'è una Z sotto Che cazzo è la Z sotto? Allora, presumo... Oddio No, scusate, mappe Aprimi Ok, scusate Ok, dicevo Presumo che questa Z, che qui sia da dove abbiamo iniziato La Z dove c'è un combattimento? E qui dove siamo adesso? Non lo so, eh Sto andando così a caso Però Mi sembra tanto che sia questo Che Se io vado giù Eh già Ah, dove c'è il mercante? Ok, adesso ho capito Qui dove... Scusate, siamo adesso E di qua Dove siamo andati prima? E qua non ho detto che non c'è niente No, è per capirci ragazzi Così almeno non lo faccio dieci volte Ok, allora adesso dobbiamo andare Semplicemente in alto Perché abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare E quindi andiamo su Scusate Ma che cazzo? Ve lo guardate adesso Ci sono due persone che giocano In un tavolino? Nell'erba? Penso a scacchi? Boh, sembra una... Una torre del re Quello... Della torre del re Buonanotte Della torre del re Insomma, avete capito Insomma, oggi non ci sono Sì, vi direte sempre Non ci sei mai Però insomma Qualche volta ci sono No, ma porca vacca Insomma, sì Non c'è modo di andare di là Ok, no Perché è meglio capire subito le cose Qua queste si possono rompere? No Queste sì però Bello, mi piace Qui non si può andare Neanche qua No Guardo ragazzi Perché non voglio Trovarmi Alla fine del livello Che mi dice Hai esplorato il 90% Che mi viene un ictus Ok, facciamo così Non c'è niente Sì, c'è qualcuno Vengo dopo No, ma porca troia Insomma, sì E vabbè Rassegniamoci Ok, bella botta Gliel'ho data Sono tre Sono tre Allora, un buff Un debuff Non sarebbe malo Anche perché è gratis Lo diamo a lui Poi Questo Mi piace Ma andiamo da lui E Questo qui è il buff Che darò dopo A meno che Non voglia fare una cosa Tipo Così Per vedere Effettivamente Di avere il bonus Di difesa Di tutti i nostri personaggi Ottico 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 Benissimo Così lui prende tranquillamente Le botte ogni round E abbiamo preso la difesa Esatto Quindi ci resiste Vuol dire che Ha subito meno danni Di quello che Avrei dovuto subire Questo si è ricurato Siamo a posto Questo intanto Prende il debuff E siamo tutti a posto Mi viene da pensare Che io potrei far così 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 E anche così Vai Oh che bella coscia Vai Vediamo un po' Che succede Perfetto Ottico E mi sono curato Oh che bella coscia Bene Eh dai Non è malo Sì lo so Sto perdendo un po' Di vita Ma adesso Recupero Quello Sto perdendo Allora Andiamo di più potenza E violenza Andiamo su questo Su questo E su questo Ragazzi Grande Così prendiamo il corpo E ci ho detto Adesso recupero Viene così Ah Contrattacco Sto animale bestione Eh no È un bel cazzo di casino Pensavo che il contrattacco Non fosse magico E non viene sempre Forse massimo ne ha due O ha una percentuale Non si sa Vabbè Pazienza Aia Ho assorbito Quello che potevo assorbire Ecco Questo sarebbe servito prima Ve lo dico subito Però Ce lo facciamo bastare Andiamo così Di più potenza e violenza Ci rigeneriamo con la piccolina Perché serve E andiamo di più potenza e violenza così Ok Penso che così Qualcosa possa fare Ottimo Vai Trenta Oh Uno è andato Mi piace Eh lo so Purtroppo Ci fa quel che ci può Ci fa quel che ci può Allora Ehm Misto Facciamo misto Facciamo così Così E Tanto lui Ormai è morto E quindi andiamo di più potenza e violenza Andiamo Buff Grande Oh Che cosa bella gradita E vai Lui adesso è sicura Però non mi fa l'attacco E questa è la cosa più importante Ok Due 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 Quattro Ma io dico che lo ammazzo Con un grande gioia Oh Sono contento Vai Sì mi ho contento di poco Lo so Se non ho così fatto Cazzo che sfiga Va bene Pazzenza Quindi Lei c'ha il buff Io penso che già Così potrebbe essere a posto Che lei ha un buff Da 17 Passata a 21 Avete visto Ottico Se da 17 Passa a 21 Oh 50 di vita Che non è malo 50 perché ricordiamo che noi abbiamo un boss di percentuale Che non influenza il leveling Influenza il totale Quindi io non sono influenzato da quell'accessorio che ho Il 50 comunque è fisso E quindi ho 50 più il 20% Quindi avrei 60 con quella fascia mia Dato di avanzamento di livello Poi 8 di magia di lei Che è fantastico ragazzi Perché in teoria 8 in più Io non faccio più 20 Non faccio più di 17 Ma dovevi fare Bisogna vedere come influenza Adesso ci guardo E quello a 10 Cazzo una magia della madonna lui Complimenti Oh quanta roba Guardiamoci subito Che voglio capire Mazzi Lei Cazzo 24 Da 17 a 24 ragazzi fa 5 Eh si Buonanotte Impariamo a contare Con sciva Fa 4 più 3 sarebbe Quindi sono 7 E mi ha dato 7 o 8 Non mi ricordo Comunque allora si Effettivamente è tanto Cazzo 24 per 3 ragazzi Comincia ad essere parecchio Questo fa 51 E questo fa 27 E se mettiamo il buff Arriviamo Potremmo arrivare sui 27 Devo provare Molto interessante comunque Ah una cosa che voglio vedere I mazzi di lui Lui Questo è il danno fisico Non magia Questo è un buff Che non vedremo Ma quindi Dove io faccio più danni Dove uso la magia Ma qui magia non ne usa Che sia veleno Che sia questo Può darsi Devo fare un po' di prove Se mi fai Curare di più Io sono solo che felicio E quindi andiamo pure avanti Vediamo se diciamo Fregali Quasi Però dai Diciamo che gli abbiamo fatto Lo stesso malo Eh Allora A tutti un debuff E questo mi piace Un buff a me E questo mi piace E Non lo so È rischioso Perché se lancio questo Sono sicuro Che io ho buff Ok facciamo così dai Tanto non importa Arriviamo lo stesso Questa carta Vai Vai E vai Perfetto Grande Grande Eh lo so Devo cominciare Spero di trovare Quello che mi curi La statua Aia Botta Ecco Adesso mi piace Perché Posso Posso fare un cazzo Di niente Due di queste Non le posso tenere Eh Per il momento Le Le scarto E quindi farò Questa Questa E questa Grande così Mi sei piaciuto Oh Vedete che scartare A volte può essere La soluzione Per vincere Ok Madonna che cura Della madonna Allora sì E questo è stato La magia Influenza Quel tipo di cose Ok Adesso Andiamo di lei Lei mi piace Perché Non posso usare Un cazzo Quindi Facciamo Una cosa Vagamente Intelligente Lui Lui E lui E vai di buff E vediamo cosa succede Ok 20 19 77 E sei uno stronzo E vai così Tac 19 Oh Non l'avevo ucciso Però Soddisfacente Adesso lui si buffa Questo è sicura E vabbè E questo mi fa Il danno Va bene Mi va bene lo stesso Ragazzi Possiamo farcela Io direi Allora 24 per 3 Fa 2 4 6 4 8 12 Quindi 72 E questo Mi muore Poi Andiamo di lui E poi Ho fatto una figura di merda Perché pensavo Di farcela Ma non importa Andrei un attimo Di lui Nel caso Assurdo Io non dovessi Riuscirci Ma ce l'ho fatta Quindi io Io sono sempre Vado sempre Un po' Cauto Nelle cose Ok Perfetto Ho assorbito Così tutto E questo Me la sono presa Tutta invece Oh mamma mia Che botte Da orbi Da orbi Allora Lui Mi va bene Lui Gli diamo Tante botte E lei La curiamo Come al solito Eh Dovrei cominciare A curare anche Alte persone Però Facciamo finta Che così Posso andare bene Ok Ok Vai E adesso Difesa Perfetto Oh E un po' di cura Nella difesa Va bene Ce la posso fare Ragazzi Mi da solo Per stare Un po' meglio La strategia Oh Ma cosa vedono I miei occhi Un bel buff Un bel 24 per 3 Che diventerà Voglio vedere Quanto diventa Facciamo così E vai così Dai Mi è piaciuta Buff 33 30 questo E 33 l'altro Ottico Mi è piaciuto tanto Ragazzi Ok Bene Vedete che ha Assorbito Oh dai Sono contento Sono contento Perché non ha subito danni Allora Adesso Facciamo Che lui muore Mi sembra ovvio Però Facciamo prima così Adesso Lo vado sempre da lui Ma Dovrei avere dei bonus Ok Questo è morto 24 L'altro Ci va vicino Perché mi è rimasto 24 Questo è sicuro ovviamente E questo mi tira L'accidenti Oh Sono contento Allora Potrei fare tante cose Di cui Questo qui Va bene Questo Adesso incomincio a curare Lui Lei Scusate È una lei Non è una lui E Eh Sì Posso provare A rischiare Facendo così Mi piace Parecchio La cosa E andiamo così Dai vai ragazzi Benissimo Oh Le carte sono venute bene Stavolta Ok 70 Quasi full Quasi full Ottico E oh Accidenti Accidentaccio Però mi è piaciuto lo stesso Adesso Sono cazzi da cacare Per lui Quindi Andiamo di così E andiamo di così Dovrebbe E dico dovrebbe Dare un bel risultato Benissimo Ottimo E tu ci muori Oh che bella cosa E noi adesso ci sbattiamo Per uno scudo Quindi tu è assorbito totalmente E adesso lo pidi in culo Scusate il francesimo Ma Insomma Sì Quindi La buff Lo uso Lo sapete perché Perché mi cura anche E quindi mi può interessare E quindi Andiamo a 24 Per 3 Vai Andiamo un po' Grande Perfetto Ottimo E abbiamo vinto ragazzi E ho perso un po' Di vita Però Non è andata malissimo Ottico Ottico Oh però c'è dato tanto 96 di esperienza Buono E tanti tanti Ben materiali Oh sono contento Le cose stanno cominciando A girare Per il verso Due scrini E per qual motivo Carte Caso al 425% 100 di forze E lei ne ha tanta Fisici Danni fisici A un nemico Se il bersaglio va fuori uso Quindi se non lo uccidiamo Quindi da tenere come ultima mossa I danni in eccesso Vengono subiti da nemici Oh questa è davvero buona Costa Una Esosità E per il danno che fa Quindi Non la userò Perché 89 ragazzi Non è Cioè E non è poco Ma usando 4 Non so Questo 425% Cosa intenda Perché lui il danno Lì c'è scritto sopra Devo ancora capire Se questa è meccanica Però Sì e no Scusate 300 monete Mi piace Mi piace La cosa Mi piace Tanto Qui non si va Io ci ho provato Ragazzi Ma non si va Quindi Quindi Adesso dove devo andare Di là Ok ho capito Scusate Buonanotte Andiamo pure Corri 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 Eh vediamo Uh ma Questo io non l'avevo mica notato Non ricordo l'ultima volta Che mi sono allontanato Così tanto dal mio Seminterrato Direi che Ora Che era ora Quindi Avventura Avventura Sì Cioè Non hai mai detto Alla fine Che cazzo Siamo quasi arrivati A clan della gilda Cioè non mi hai detto Cosa volevo dire Poi se Leggessi il cartello Dici ma Questo legge il cartello Oh ragazzo Ma dove cazzo Devo andare Di qua Ovviamente Salve Eh non ero sbagliata Porca Di quella Tra mi si Ho l'analogico Che mi si gira a volte Da solo È un po' usurato Vabbè Pazienza Allora Facciamo così Facciamo così E facciamo così Vai Vediamo un po' Cosa succede Non mi sono curato Ragazzi scusate Mi sono proprio dimenticato Ok Quasi shottato Oh cazzo Davvero quasi shottato Eh La miserica La miserica Così estruso Eh Io andrei di così Poi andrei di così E andrei di così Oh come mi piace Così mi faccio anche il buff Della 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 Come avete capito Ok Grande così Ha assolvito Ha assolvito Quasi E adesso abbiamo preso un sacco di danno Va bene Mi va bene lo stesso Non importa Questo va via Questo 90 9 18 27 Ok Allora È sicuro lo stesso Che i due li facciamo fuori Questo è l'importante Ok E vai Perfettico Dai Va bene lo stesso Abbiamo assolvito tutto E tanti assoluti Io ho visto che Ci spero Allora questo Va bene Speravo di trovare No Non l'ho trovato Purtroppo Vabbè Pazienza Ci Arrangiamo come possiamo Ok Data No Volevo vedere se riuscivo a curarmi Ma Purtroppo non avevo Bastante soldi Oh 8 di magia Lei che non lo usa Oddio Forse qualcosa Devo controllare E 50 di cuore Lei che non è male 70 di galeo Beh Galeo È abbastanza Spinge parecchio Nel Level up Sia di magia Che di cuore Va bene Andiamo pure avanti E vediamo un po' Qui se c'è qualcosa No No E no Purtroppo no Anche se avrebbe poco senso In effetti Guardando La mappa Andiamo qua Invece Ormai Controllo Dopo non lo voglio Rifare Ragazzi Oddio Lo potrei fare Per livellare E farmare Magari Oh Sì Grande Meno male che non mi sono curato Ragazzi E qua Non c'è niente Siamo al villaggio Così sembrerebbe Salve Io non userei il termine Fastidioso Oh cazzo Cosa mi caga Questa adesso Deve essere una Trivella regina Scusate Trivellape I nostri eroi Si preparano Per lasciare Il loro pubblico Allibito Non è che volevi Dire Appuntito Che scema proprio Mamma mia Uno peggio dell'altro Ragazzi Allora Vediamo un po' Come fare Questo qui Alla grande Questo qui Alla grande E peccato Che non posso usare Questo Perché C'è In mezzo Una carta Di loro Non l'ho capita Però mi servono Punti Quindi andiamo così Perché Oddio Eh Hai fatto un bel Un bel summon Saranno cavoli Da cacare Comunque abbiamo Spena salvato Stavo ragionandoci Un po' Sopra Che Non so Che cazzo Di carte Usare Quindi faremo Così Questa Mi piace Però Devo usarla Lì Però Ragazzi Sono un po' Interdetto Questa Mi va bene E questa E questa La fin Voglio finire Così ragazzi Poi vi spiegherò Perché Perché non Trovavo Sensato Ok Usare Quei punti Adesso Perché Avevo un buff Lei Che non potevo Prenderla Io il buff Della potenza Ce l'ho ancora Quindi Ci vado Di più potenza E violenza Mi dispiace Non poter Avere E questa Mi interessa Questa Posso anche Scartarla Grande 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 Ok Avete capito Adesso Che cosa Gradita È perfettico Non è tanto Ragazzi Non è tanto Ne sono Consapevole Però È qualcosa Che non va Ma ha fatto male Baffiamoci E curiamoci Questa La posso ancora Usare su di lei Che mi va bene E io direi di questo Ok Facciamo così Baffiamoci Tiriamone Un bel Oh Sono contento Va bene Mi sono più che soddisfatto Ok Ancora Allora A parte Galleo Abbiamo Abbiamo Siamo Riusciti a assorbire tutto Veleno Mi piace Curiamoci Galleo Va bene E Facciamo così Ma ci dai Tanto non importa Se non abbiamo tutto Oh Perfetto Così lei Comunque Se si baffa Abbiamo Un che Da poter fare qualcosa Felicico Allora Lei è interessante Io Per adesso Questa la scatterei E scatterei anche questa Non ce l'ho fatta Eh C'ho provato Ragazzi Potete biasimarmi Allora Baffare De baffare E spacco De fre Non sarebbe Malo Facciamo così Baffiamoci E curiamoci De baffiamolo E andiamo Di più potenza E velenza Su di lei E abbiamo anche Il bonus Ok La catena Vedete che sto puntando Molto sulla regina Perché gli add Sono portanti Sì ma fino a un certo punto Ok Benissimo Direi che Non c'è male Io direi Di fare una cosa Vagamente intelligente Perché dire che intelligente Sarebbe dire troppo Qua E Qua Perfetto Così ci Abbiamo il cuore Tutti tre Ottimo La regina sta subendo Grande Vediamo quanto Riusciamo a assorbire Assorbito Assorbito Ma a lei no Purtroppo Ok Lei riusciamo ancora A prenderla Ok Mi piace tanto Questa non la posso usare Vediamo un po' Se riusciamo a fare qualcosa Vai ce l'ho fatta No non ce l'ho fatta Che cazzo dico Eh scusate Pensavo ad alto Adesso Oh Eh dai dai Non male Non male Eh proprio lei Che è la più debole Eh l'altro l'ha assorbito Bene Ok Mi sta bene Mi sta tanto bene Che vorrei provare A fare una cosa Vagamente Intelligente Lei curati Tu curati E tu Baffalo Ok Dovrebbe bastare Cioè dovrebbe prendere lo stesso La magia Ottimo No Mancato Ma accidenti Oh c'è ancora Vabbè pazienza Non avevo calcolato Questo piccolo dettaglio Pensavo che la magia Comunque partisse Senza cesi problemi Allora Eh Ah Mi toccano dalla regina Vabbè No che mi dispiace Eh Eh Facciamo così Proviamo Grande Perfettico Potevo usarlo prima Avevo sbagliato Non importa Comunque Oh non è andato male Vai Oh grande così La regina Ormai sta Avendo i giorni contati Per fortuna Eh dai Datevi una mossa 50.000 attacchi Allora Baffiamo Regina 20 40 60 72 Sto pensando Ok Vai Baffiamo 30 30 60 90 90 180 Oh Vedete Ammazzando Ero quasi Quasi Sicuro Che ammazzando La regina Avrei ammazzato Anche gli altri Non ero sicurissimo Però Perché abbiamo visto Che nel primo episodio Non è stato così Con il fungo Ok Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Beh Non è andata malissimo Abbiamo preso Tanto Belle cose E abbiamo salvato Da poco Io adesso Vado a salvare Perché ci salutiamo qui E voglio solo vedere Se effettivamente La regina Ritorna Perché se ritorna È un belito in culo Ok Non c'è Per fortuna Meno male A meno i boss Non ritornano Comunque A meno che non rifacciamo Il capitolo da capo Allora ragazzi Io come al solito Vi invito A lasciare un like Commento Se mi piace la serie E fammi sapere Cosa ne pensate Così Facciamo due chiacchiere E per adesso Vi do un saluto Ciao c'è Ciao!